Oggi siamo al Cinema Massimo di Torino per la presentazione di un libro che si chiama? Si chiama Un uomo una città, il commissario di Torino, quindi sono due titoli racchiusi nel titolo di questo libro che io ho curato e che appunto è dedicato ad un film e ad un romanzo. Il film è il film di Romolo Guerrieri del 1974 che si chiama Un uomo una città e il commissario di Torino è il romanzo a cui il film si ispira. Infatti torni a merito nel tempo, andiamo nel 1973 quando due giornalisti di cronaca di Torino scrivono questo romanzo che ha grande successo. E poi cosa succede? Esatto, allora nel 73 come hai detto Riccardo Marcato e Piero Novelli che sono due giornalisti torinesi scrivono questo romanzo che era ispirato alla figura del commissario Giuseppe Montesano e l'anno successivo il produttore Luigi Rovere propone al regista Romolo Guerrieri di trarne un film. Questo film era proprio Un uomo una città che è stato girato poi nella nostra città. E questo oggi, in caso straordinario, verrà di nuovo proiettato dopo 44 anni. Esattamente, l'evento che si terrà questa sera al Cinema Massimo è un evento speciale. Dopo 44 anni il film torna su questi schermi alla presenza del regista Romolo Guerrieri e di parte della troupe e del cast che vi partecipò all'epoca. Ecco, parliamo un po' anche del cast. Chi c'era nel film? Gipo Farassino? Beh, grandissimi nomi del cinema italiano. Stiamo parlando di Enrico Maria Salerno, Luciano Salce, Francoise Fabian e poi il nostro, come hai detto tu, Gipo Farassino che vi stupirà perché in questo film lui parla in napoletano. Venne doppiato da un doppiatore napoletano che era Antonio Casagrande e quindi stranamente Gipo Farassino è in questa veste un po' inusuale. Come già accenato poco fa, in questo libro abbiamo due parti. Una parte è il romanzo, se non ho capito male, e invece la parte che dedica il film qual è e in cosa consiste? Sì, allora, diciamo la parte introduttiva del libro è quella dedicata al film e praticamente questa parte contiene un mio saggio introduttivo, poi un'intervista al regista e una serie di altri contributi, tra cui anche un contributo dell'ex sindaco di Torino, Diego Novelli, e quindi è una parte dedicata proprio alla lavorazione del film. Ci sono tra l'altro dentro anche delle fotografie di scena che non sono mai state pubblicate, quindi è una novità, è una cosa inedita da quel punto di vista. La seconda parte è invece il romanzo Il commissario di Torino, nella sua versione integrale. Erano molti anni che non veniva stampata una riedizione di questo romanzo e mi fa piacere riportarlo anche nel cuore dei torinesi. Hai avuto tantissimo successo quando è uscito, quindi sicuramente andrà bene. Sì, insomma, mi auguro di sì. È sicuramente un romanzo che io definisco autentico, perché rappresenta molto bene la Torino di quegli anni, che io non ho visto. Però dai racconti delle varie persone che ho incontrato proprio in occasione di questo volume, mi hanno confermato che la Torino rappresentata nel romanzo prima e nel film dopo è assolutamente autentica. Come ti è venuta l'idea di creare questo libro? Dalla mia grande passione per i film polizieschi degli anni 70 e ancora di più per i film girati a Torino, e che mi fanno vedere, mi illustrano una Torino che io non ho conosciuto, quindi molto diversa per certi aspetti. Insomma, ci sono luoghi che non esistono più, come ad esempio le vecchie Piole, i locali dove si faceva la tampa lirica, che la tampa lirica erano dei locali dove si poteva mangiare, c'erano dei cantanti lirici che ti intrattenevano. Ecco, tutte queste cose sono praticamente scomparse e mi fa davvero piacere ritrovarle in un film e appunto nel romanzo. Come hai detto poco fa, sono presenti anche il regista e lo scenografo, quindi direi di andargli a trovare, ci facciamo raccontare qualcosa. Assolutamente, è un'occasione da non perdere perché sono eccezionalmente qui e vi racconteranno delle cose molto interessanti. In bocca al lupo per il libro. Crepi, grazie. Abbiamo il piacere di avere qua per la proiezione di questo film dopo 44 anni sia lo scenografo che il regista. Non è un'emozione dopo 44 anni di nuovo scena o un suo film? Ma sinceramente sì, è un'emozione, lo stavo dicendo con Liverani, perché abbiamo passato in fondo tre mesi qui a Torino per girare il film, li abbiamo passati bene perché Torino è una città accogliente, perché abbiamo avuto una troupe molto efficiente, di gente professionista, perché abbiamo avuto un produttore eccezionale che ci ha dato libero sfogo. Ahimè, ha dato libero sfogo anche all'architetto e vabbè, sono venute fuori delle cose sinceramente belle. Quando gli hanno proposto questo film di fare le decoposte della regia, che cosa ha pensato? Avete deciso, lei poi il produttore, di farlo sceneggiare e di mandare le scene. Che cosa ha pensato? Cosa ho pensato? Sì, quando abbiamo proposto di fare questo film. Beh, ho pensato che era una cosa che mi sarebbe piaciuta fare perché conoscevo poco Torino, perché avevo fatto della pubblicità, quindi ci sono tornato molto volentieri. Sono stato tre mesi ai Principi di Piemonte. Esatto, volentieri sì, allora. Ci sono stato bene e poi, ripeto, Torino è una città che poi sempre di più ho amato. Che Torino era in quegli anni? Lei che si è occupato delle scenografie, di scegliere le location, che Torino era? Che Torino era? Era una Torino, posso dire diversa di oggi, veramente, sì, veramente, era la Torino, quella che conoscevo io da bambino, che io sono nata a Torino, tra l'altro, quindi era la Torino che conoscevo io e poi al di là della troupe che abbiamo aiuto, eccetera, ho avuto un aiuto proprio da Torino stessa proprio, non solo della troupe nostra che era straordinaria tutti, poi con Romolo, però è proprio Torino che mi ha dato una mano grossa per avere quelle immagini che vedrete, che sono viste, quantomeno, insomma, quello era il grosso aiuto proprio di Torino, una città molto particolare, lo è ancora, perché purtroppo vengono a girare, questo lo dico, anche, vengono a girare ma Torino non la conoscono, Torino è una città che, come dicevamo con Romolo, è una città che deve aprire una porta e entrare dentro, per quanto bellissima anche fuori, ma la Torino è veramente una città... Da scoprire? Ma ancora sarebbe, perché Torino dovrebbe ancora dare 3.000 cose, potrebbe dare, invece purtroppo, sì, bellissimo, il palazzo di qui, il palazzo di là, quello che vuoi, ma Torino è un'altra cosa, a parte poi se rientra nei discorsi dell'esoterismo, di Torino, Lione, Londra e Alessandria d'Egitto, quella è una storia lunghissima, però per dire anche quella, e Torino è ancora, secondo me, offrirebbe ancora 3.000 chances da girare la mente. Ecco, come ha scelto invece i luoghi di Torino, come ha fatto a sceglierli? Ma la conoscevo Torino, io ho amato Torino, io a tanto abitavo in Piazza Carignano, ma avevo anche uno studio in Via della Basilica, quindi per me, ecco perché poi abbiamo girato la scena del finale del ragazzo che si vuole buttare giù, che normalmente era, nella texografia era calcolato la cosa come quella lì che vede, in realtà poi abbiamo detto facciamola invece lì sulla Torre Campanaria, con il Duomo stupendo che è di mio del Caprina, tra l'altro, quindi Torino era quella, la sono cercata proprio, chiaramente con l'aiuto di Roblo, che poi chiaramente è lui che poi l'ha visualizzata, però per dire. No, devo dire che nella sua follia, d'altra parte, essendo così bravo, un po' folle deve esserlo, questo campanile della cattedrale l'ha rivestito di tubature innocenti, si chiamavano loro, con delle impalcature dove abbiamo girato una scena, una scena devo dire bella, importante. Il Duomo sulla destra, straordinario, quel Duomo di me o del Caprina, che avevo del Fonte, ma Torino, Palazzo Carpano, abbiamo girato in posti straordinari. Insomma, l'Eugenio mi ha fatto conoscere Torino bene, me l'ha fatta conoscere bene e me l'ha fatta amare. Noi siamo di parte, perché siamo di qua, siamo anche di parte, grazie tante, grazie tante. Io ringrazio tutti gli amici che ci seguono dal web, da doningamba.com e i telespettatori di GRP. Ciao telespettatori, ciao.